Uno scenario tra luce e ombre. La Lombardia ha recuperato i livelli di attività pre-crisi già nel 2017, mostrando una performance migliore della media italiana, ma non ancora ha colmato il divario di crescita con le altre regioni europee accumulato durante la crisi economica. L'analisi autorevole è contenuta nel rapporto sull'economia della Lombardia, realizzato da Banca d'Italia, illustrato oggi a Sondrio, nella sala consigliere di Palazzo Muzio, da Giuseppe Sopranzetti, direttore della sede di Milano, da Giulia Martina Tanzi e Sara Pinoli, della divisione analisi e ricerca economica territoriale di Banca Italia. A loro fianco il consiglio delegato della Banca Popolare di Sondrio, Mario Alberto Pedranzini, la presidente della Camera di Commercio di Sondrio, Loretta Credaro, il vicepresidente di Confindustria d'Ecco e Sondrio, Emilio Mottolini. A fagli onore di casa il presidente della provincia, Elio Moretti. Nel prefetto Paolo Aspena è arrivato l'appello a non abbassare la guardia per evitare che l'economia sana venga inquinata dalla malavita. Nell'industria, l'anno scorso, la produzione è cresciuta del 3%. La crescita degli investimenti è stata sostenuta nel 2018. Oltre il 55% delle aziende ha fatto ricorso al superammortamento. Nel corso del 2018 l'occupazione è cresciuta dallo 0,6% e il tasso di disoccupazione si è ridotto attestandosi al 6%. Sostanzialmente i dati sono positivi. Indubbiamente le luci prevalgono sulle ombre, quindi questo lo possiamo dire certamente, però se poi andiamo magari a approfondire la dinamica in tempi più recenti, vediamo che però rispetto al 2017 i dati del 2018 sono di meno soddisfazione. Abbiamo una crescita del PIL del 1,4% che è indubbiamente superiore allo 0,9% italiano, però inferiore al 2,7% del 2017. Diciamo che dalla seconda parte dello scorso anno sono aumentate un po' le ombre, le nubole, diciamo, dovute a un'incertezza legata alle dinamiche internazionali, quindi dai Dazi a Brexit, al rallentamento dell'economia tedesca e le pressioni sui titoli di Stato italiano. Il credito bancario ha continuato a crescere nel 2018, più 2,7% per i prestiti bancari in provincia di Sondio, contro il 2,1% Lombardo. Crescono anche i depositi di famiglie e imprese, più 4,8% a Sondio. Diciamo i prestiti è buona notizia perché è una dinamica abbastanza rallentata a livello nazionale e qui troviamo degli elementi positivi. I depositi crescono anche per quella incertezza che dicevo prima, nel momento in cui non c'è ancora una prospettiva chiara e il depositante, il risparmiatore, mette i soldi intanto in stand-by in vista di più proficui investimenti.